Musica Bella a tutti ragazzi qui parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News Spoiler e altro sono tornato ragazzi con un video veramente molto interessante Perché a quanto pare nel quarto episodio della settima stagione Daryl abbia parlato con Rick di nascosto Questa ragazzi è una teoria che moltissimi fan si stanno facendo ed è veramente molto interessante Perché durante appunto il corso del quarto episodio di The Walking Dead Ovviamente come sapete tutti Negan ha vietato di parlare con Daryl a Rick Quindi ovviamente Rick non poteva dire nulla a Daryl Ma Daryl è stato zitto e sembrava un silenzio un po' forzato e un po' diciamo che nascondesse qualcosa Quindi nascondeva sicuramente qualcosa questo silenzio diciamo di Daryl E io l'ho interpretato stranissimo cioè nel senso detto strano che Daryl si sta comportando così Vedevo qualcosa di strano nel suo comportamento e nel comportamento anche di Rick Perché comunque sembra che sia successo qualcosa durante quel lancio di sguardi che si sono tirati Daryl e Rick E molti hanno sospettato che si tratti di codice Morse Ovviamente il codice Morse sapete tutti che sono diciamo il punto, il trattino E si possono dire magari le parole insomma qualunque cosa sia Le lettere insomma con l'alternarsi del trattino e del puntino Così da formare appunto una lettera Infatti ragazzi è davvero molto interessante vedere come nella puntata dove Michonne è uscita per pre col fucile Diciamo per andare a allenarsi col fucile Passa casualmente davanti alla tabella del codice Morse Vediamo proprio la tabella che c'è proprio il codice Morse Vista proprio in bella mostra Questa ragazzi sinceramente non l'avevo vista ad Alexandria Non l'avevo mai vista questa cosa E mi sembra strano che l'abbiano fatta proprio vedere in bella vista Come se fosse che volevano farci capire qualcosa Volevano farci intuire qualcosa Ed è veramente molto interessante poi vedere come la gente si sia fatta tutte le teorie Per cercare di provare questa cosa qui Ed infatti da come appunto Daryl abbia fatto degli sguardi con Sostanzialmente con l'occhio Quindi praticamente alternava col punto, trattino con l'occhio praticamente Una sorta di sbattere le palpebre insomma in modo strano E questo messaggio appunto potrebbe avere Cioè potrebbe essere diciamo Est e HT Quindi Daryl potrebbe aver detto Est Che sta ovviamente a significare la direzione del santuario Quindi a Est e il covo di Negan Mentre HT potrebbe stare a significare Il Top Questa ragazzi è una teoria molto interessante Perché comunque sia potrebbe avergli detto una cosa molto interessante Potrebbe avergli detto che ad Il Top Negan adesso praticamente attaccherà Il Top Ed infatti nel quinto episodio vediamo appunto l'assalto ad Il Top dal gruppo di Negan Guidato da Simon Quindi può essere tranquillamente che questo si tratti di una specie di messaggio Che Daryl voleva lanciare a Rick Per fargli capire che ci sia un attacco imminente Però non da loro ma appunto a Il Top Ed mi sembra anche diciamo sensata questa teoria nel dire dell'Est Che molto probabilmente voleva far capire che il covo di Negan ovvero il Santuary Il Santuario si trova proprio a Est E quindi potrebbe praticamente aver comunicato Per fargli capire che lui vuole che loro attacchino i Salvatori E vogliono praticamente porre fine a tutto quanto Il bello è che potrebbe tranquillamente essere vera come ipotesi Infatti l'ho messa come probabile ipotesi che appunto possano aver comunicato in questo modo Proprio perché mi sembra strano che hanno messo la tabella del codice Morse Esattamente in quella posizione dove Michonne stava uscendo E poi vedere Daryl che appunto fa questo strano Insomma movimento appunto con gli occhi Per far proprio far capire questa cosa qui Mi sembra davvero una teoria molto sensata Infatti l'ho presa come teoria buona Proprio perché comunque sarebbe una cosa molto veramente molto interessante Proprio perché comunque sia Quando appunto non sappiamo ancora appunto se il gruppo di Rick attaccherà o meno Diciamo i Salvatori quindi Negan Però sappiamo che ci sarà un attacco imminente Proprio perché abbiamo visto che Rosita, Michonne e tutti quanti Non ce la fanno più a stare sotto il controllo di Negan Vogliono liberarsi di questa sorta di controllo che Negan sta avendo su di loro E sinceramente l'idea di attaccare il gruppo di Rick Può trattarsi, scusate di Negan Può trattarsi di una cosa che succederà a breve Ed è proprio bello il fatto che adesso ci sia questa teoria Proprio perché molto probabilmente potremmo vedere tranquillamente lo scontro Anche nel mid-season Quindi il mid-season potrebbe essere lo scontro fra Negan e praticamente Rick Quindi Alexander magari si uniranno anche come ripeto il top Oppure si unirà il regno e combatteranno insieme contro Negan Perché ovviamente ragazzi come sappiamo i Salvatori sono veramente tantissimi Ed è proprio questo il motivo per cui spinge il gruppo di Rick a non attaccare E a obbedire ovviamente a tutti gli ordini che Negan gli impartisce E quindi sarebbe molto interessante vedere la coalizione tra il regno Una teoria molto interessante Ovviamente questa non è confermata È una teoria ragazzi dei fan Quindi evitate appunto di pensare che si tratti della realtà Perché potrebbe essersi tranquillamente Daryl Che aveva fastidio col sole E quindi ha mosso in quel modo gli occhi Anche se mi sembra veramente una cosa strana Ed è l'unica teoria che Dopo tutte quelle che abbiamo visto ormai Tutte le teorie che abbiamo fatto con Lucille Con Negan che uccideva la vittima di Negan Insomma ne abbiamo abbastanza ormai di teorie Però questa a mio parere è una teoria più plausibile Rispetto a tutte quelle che sono uscite Nel corso dei sette mesi di attesa Per il primo episodio E penso che si possa trattare tranquillamente Di una teoria che è la verità insomma Una teoria che si può tranquillamente risultare veritiera In ogni caso ragazzi fatemi sapere appunto Voi cosa ne pensate qui giù nei commenti Perché ovviamente mi interessa la vostra opinione Quindi valutate insomma attraverso questo video Se vi è stato ovviamente utile Valutate appunto la vostra teoria Quindi scrivetemi giù nei commenti cosa ne pensate Sarebbe molto interessante vedere questo scontro qui Tra Negan e Rick E sicuramente penso lo vedremo presto E comunque questa teoria Del fatto che Daryl si trovi adesso Perché adesso dobbiamo contare ragazzi Che adesso comunque sia Daryl ritornerà Scusate al Century E quindi ovviamente Forse è stato anche un motivo in più Quello di Daryl a non rimanere col gruppo di Rick Proprio perché vuole appunto Avere un vantaggio di questa cosa qui Vuole comunque sia trarne un vantaggio Ovvero quello di conoscere meglio il posto Per poi comunicarlo a Rick Magari attraverso questo codice Morse Quindi comunicare tutti Gli spostamenti che Rick Appunto stanno facendo Cosa faranno E cosa appunto Possono fare Per attaccare il gruppo di Negan E Daryl potrebbe essere Come abbiamo sospettato in moltissimi La spia All'interno del gruppo di Rick Cioè all'interno appunto del gruppo di Negan Per comunicarlo a Rick E sarebbe ragazzi una teoria Come ripeto Veramente molto interessante E scopriremo poi nei futuri episodi Se questa teoria sul Morse God Ovviamente sarà una cosa Veritiera Oppure no Però a mio parere Al 97-95% A mio parere È la realtà Proprio perché Mi sembra troppo strano Questo zoom Sulla tabella del codice Morse Perché non aveva tanto senso Cioè nel senso Perché mostrare uno zoom Sulla tabella codice Morse E mostrare anche uno zoom Sul Su Daryl Perché abbiamo visto che Daryl Ci ha messo 5-6 secondi Poi L'inquadratura ci ha messo 5-6 secondi A staccarsi da Daryl Quindi credo che Quei 5-6 secondi Sono bastati Per far capire a Rick Che lui Lo stesse comunicando qualcosa Una cosa veramente Come ripeto Molto interessante Le teorie ormai Come ripeto Ne abbiamo abbastanza Però questa credo Che sia la più plausibile Fatemi sapere Come ripeto Con un commento Voi cosa ne pensate E spero tantissimo ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Se non è ancora fatto Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead Ci darei se la cesta Questo mio piacere Che è davvero molto importante Inoltre ragazzi Passate nella pagina Facebook Nel profilo Instagram Proprio perché Sulla pagina Facebook Faccio tantissimi post Vi tengo appunto Aggiornati Su qualunque cosa Quindi mi raccomando Ragazzi seguite Lasciate un mi piace Alla pagina Facebook Se volete supportarmi E se volete seguirmi Anche su Instagram Potete farlo Il link Lo trovate In descrizione Fatemi come ripeto Sapere voi cosa ne pensate Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Foxane The Walking Dead News Sous-titrage ST' 501